5 ottobre 1910, in Portogallo viene instaurata la Repubblica. La proclamazione della nuova forma di governo pone fine al regno della dinastia dei Braganza, iniziato nel 1640. L'ultimo re del Portogallo è Manuel II. La democrazia portoghese sopravviverà sino al 1926, quando un colpo di Stato militare instaura una dittatura di stampo fascista, guidata dal generale Carmona e, dal 1932, da Antonio de Oliveira Salazar. La rivoluzione dei Garofani nel 1974 spiana la strada per l'approvazione, due anni dopo, di una nuova Costituzione che ripristina in Portogallo un regime democratico con a capo un presidente, eletto ogni cinque anni.